A Manziana Raccolto calorosamente dai vecchi amici Parola e Vivolo Poi si esibisce sul campo in un numero virtuosistico Sparita la palla è ricomparsa nelle braccia di Giovannini Ma in fatto di consensi più che come portiere aggiunto Il nuovo centro sostegno laziale riscuote come chansonnier applausi Fra la divertita sorpresa di questa spettatrice Tascapi Finiti i diversivi ci attendono al vomero, la nuova Roma e il nuovo Napoli Ecco Niers, ultimo acquisto giallorosso E Tre Re, ultimissimo acquisto azzurro La Roma tiene in riserva i migliori per il secondo tempo Tanto i gol non contano Anche se sono belli come questo di Vitali su lancio di Jepson Ghigia è sempre lui Eccolo concludere in bellezza un guetto con Beltrandi Poi Vitali restituisce il piacere Nel gol di Jepson la semplicità che è arte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti